Allora una presenza sicuramente interessante e importante ad Enada Rimini è quella di Time City, ecco ci parla un po' di questo gruppo? Sì, allora il nostro gruppo è nato nel 2003 e ha sviluppato, ha cominciato a sviluppare da subito le sale. Abbiamo attualmente una 44 sale in Italia, abbiamo la sala più grande d'Italia che sono quasi 5.000 m2 dove sono state installate le prime videolotterie in Italia e da subito abbiamo avuto l'esigenza di una gestione totalitaria di queste sale, avendo tante sale sparse in Italia c'era l'esigenza di avere un contatto con le sale essendo sparse per l'Italia. Dopo vari anni di tentativi abbiamo finalmente trovato in un partner d'eccellenza, Made Engineering, che ci ha permesso di sviluppare un prodotto che possa essere la gestione totalitaria dai dipendenti a gestione casse, a qualsiasi altra cosa, ci ha permesso di gestire in totalità le nostre sale e questo ha fatto sì che è nato un prodotto che oggi riusciamo anche a portare verso l'esterno perché abbiamo visto l'efficienza e l'efficacia di questo prodotto che ha dato successo poi alle nostre sale, come è risaputo almeno nel settore, come si è riconosciuto. Ok, un prodotto che appunto si chiama Teoreo, ce lo può spiegare? Sì, Teoreo è nato dall'esperienza proprio dei nostri sistemi informativi, quindi l'esperienza dello sviluppo di sistemi informativi e dalla conoscenza poi che ci ha fornito Time City nel mondo del gaming. Diciamo che il mix delle due componenti, sia quella tecnologica che quella di competenza specifica nel settore, ha permesso di tirare fuori un prodotto d'eccellenza. Teoreo, per riassumerlo, è un sistema di semplificazione della gestione delle sale giochi. Va dalla gestione del personale, alla gestione del pagamento, alla gestione anche delle fidelity card, quindi programmi di fidelity all'interno delle sale. In parole semplici, partiamo sia da una gestione automatizzata del flusso, quindi nel momento in cui c'è una vincita, fino ad arrivare addirittura alla gestione del norme antiriciclaggio. Quindi vado anche a rispondere a delle direttive di legge, che oggi sono sempre più sentite e sempre più preoccupanti per il mondo del gaming. Ecco, anche perché le gestioni delle sale VLT sono fondamentali, proprio perché è una location di gioco sicuramente su cui si sta puntando molto. Sì, allora, noi le problematiche principali che hanno risolto la managing è stata quella della sicurezza del gioco all'interno, attraverso, noi abbiamo vari sistemi, come ben saputo, per quanto riguarda l'antiriciclaggio e quant'altro. Questo ha portato, per un settore che non era abituato a questo, ha portato un accumulo, diciamo, di carte e documenti non gestibili da persone che non avevano questo know-how passato. Oggi, grazie a questo, siamo riusciti attraverso l'archiviazione elettronica, firma elettronica e successiva, siamo riusciti a snellire totalmente, a creare nuove figure e a far sì che il nostro personale sia abbastanza esperto, che è totalmente esperto su queste cose, e riesca a gestire in pieno la vita del gioco all'interno dell'azienda, anche quando la proprietà non è presente al 100%, ma in realtà è presente al 100%, grazie a questo sistema. Grazie.